Identificati dalla squadra mobile di Trieste, tutti i soggetti presenti la sera di lunedì 15 giugno in Via del Toro, quando due gang contrapposte si sono affrontate a colpi di spranghe e bastoni, nonché gli autori di due aggressioni realizzate nei giorni successivi. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste e da quella presso il Tribunale dei Minorenni hanno consentito di individuare un nutrito gruppo interetnico di giovani, in gran parte kosovari, ma anche serbi e italiani. Si tratta di 19 minorenni, compresi fra i 15 e i 18 anni di età, ma secondo il dirigente della mobile, Marco Calì, si può escludere che ci si trovi di fronte ad una guerra etnica, ma piuttosto che si tratta di dinamiche adolescenziali. A seguito delle risultanze dell'indagine, la magistratura ha emesso 29 decreti di perquisizione a carico di altrettanti indagati, che sono stati eseguiti dalle prime ore di questa mattina, sequestrati cellulari, indumenti indossati al momento dei fatti, nonché taglierini, coltelli e mazze. Nei giorni scorsi erano state ritrovate anche altre armi improprie abbandonate nei pressi dei luoghi interessati dalle risse.